il film e' ora di una ok vi sto firmando dottor cake e' sto andando in un minuto cacchio oh ma ops ah ops dottor cake sto cazzo no ma come si sa oggi no col cazzo che non c'è ancora sì hai un cuo della madonna e infatti già ho preso fuoco di vince o robe del genere prendevo danno e c'è pure fatto ed è giusto da un uomo che si fa spero sono usciti c'è qualcuno dietro l'albero non è un consiglio tirato fuori la testi me volete ti voglio muovere qualcuno mi spinge no no la sua versa adesso che perché si spiega si dimmi sei su skype si cacchio andiamo tutti ma perciò no mi dico che ho 4 su skype così ok aspetta no così oh sta costruendo il resto di nabbi so adesso mi metto in traversa aia paura andiamo su skype così vedo ok poi accettato guarda questo poi un pro è più forte di me e non riesce a dominarmi tanto questo qua invece fa il coglionazzo ma che la torretta no distrutta la torretta che colopio si vede so cosa per qualsiasi parte o faccia si vede con ok ho un culo sono felicissimi se muro muori sono felice ci ho fatto edge con un tizio saltava oggi sono drogato ho il vero ho fatto più punti di tutti ops bovera si muro sta nel gioco eh no senti che ho bisogno di me paura se sei liberi ho bisogno di una margita eh bastardi i cagati sotto ai 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 amo un run crepa attenzione no ne ho shottati due buuuu date edge shot ah no è proprio affatto ho ancora impiegato prima io il tazzo rosica rosica quanto rosica si vioggi rosica come un cane da dove è caduto quello oh no oh no oh no no che palle l maiuscole l maiuscole l maiuscole allora aspetta non lo ricordo più ehm prova a scrivere lisa 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 esめ una ringida una russa lisa 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 La russa 2 5 2 1 4 buon'altra russa ma che ho uscita poi grazie ma ma si lisa cacchio me lo dici tu o io sto ancora filmando basta scrivere lisa io sto ancora filmando 2 1 4 ce l'ho trovata io al primo colpo ma è sempre la russa ma nome skype no nome skype no nome skype lisa 2 5 2 1 4 minuscola no io l'ho messo minuscola lisa 2 5 2 1 4 aspettate forse ho sbagliato io un attimo ma io ho trovato una persona di milano italia c'è qualcuno che mi ha dato la richiesta io e gamer max massimiliano sempre la russa vecchio oddio l'ucraina ma scrivi sono al mio nome completo noi siamo filippine egitto che cazzo via svizzera gnocca grecia ma tu si aspetta lì ma tu puoi andare sul mio profilo e vedere i miei eh infatti e che cacchio aspetta come faccio no come faccio no non puoi vederli i miei amici allora scrivi nome completo silvi scrivi si nisa su nome completo e l maiuscola l maiuscola lisa e poi nome skype è quello si ma no niente nome skype cosa lisa 25 21 4 25 21 4 mi sta ammazzando tutti come se fosse niente la russa è sempre l'ucraina sempre la russa ma non è possibile io sono sempre lei ma che cacchio sto facendo non lo so io sto impazzendo qui lisa non puoi aggiungerlo tu si come cacchio è più facile aggiungi tu va che me non so no non è presa aspetta un attimo come ti chiami massica il mio nome skype è silvio massimo lo puoi guardar tu oddio silvio punta a ficella 9 me lo ricordo a memoria ok non mi skype visto che ti ho aggiunto l'altro ieri oh ieri no ieri ok aspetta che ti aggiungo ninja moves ok adesso arrivo lisa 252 14 ecco perché ho detto questo cos'è che cambia scusa con quello che ho detto sono stupido lisa 252 aspetta ti guardo eh perché guardo state distraendo mi stanno ucciso 252 14 252 14 ma se lezione a suo nome aggiungi non si può lol ma perché non entri nella chiamata scusa ah lisa 252 14 non la trovi la solita ucraina beh io oh no che cazzo si ridi stupido senti intanto un peccino che minchia guarda ma questo è ancora giocante ma non ho capito tu lo carichi o no sui tubo eh si è una idea ma quindi aspetta non ho capito il problema non possiamo fare la webcam di gruppo perché siamo non si cosa questo è talmente scemo da non capire una cosa ovvia capito non mi fa esplodere certo com'è che ti chiami su youtube eeeh sarah25214 com'è che ahahahah aspetta faccio la cosa ahahahah 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 ma voi avete smesso di giocare? non ho capito no siamo io su Skype se no non mi ho smesso ahahahahah ahahah ahahahahah ahahahahah ahahahah ahahah 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 Silvio? aspetta che sono uscito aspetta eh ahahahahah 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 aspetta ahahahahah non offendermi non deridere di me ahahahahah 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 la normalità ah io non ho smesso di filmare aspetta eh aspetta aspetta vabbè adesso smetto come cacchio finisco il filmato ora ora ora